Buongiorno progettista! Lo so, lo so, senti la voglia irrefrenabile di scappare in ferie, tuttavia concedimi ancora quest'ultimo video prima di partire per le tue ferie. Se infatti desideri approfondire le tue conoscenze e sentirti sicuro quando vai in cantiere, ho creato un'occasione unica e super conveniente che non puoi farti scappare. Te la spiego in questo video. Ciao, sono Giara Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adara Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. Arriva l'estate e finalmente il tanto atteso relax, ma prima che tu ti goda il meritato riposo, voglio farti andare in vacanza senza pensieri, sapendo che ti sei aggiudicato la migliore formazione ad un prezzo super conveniente grazie ai miei saldi estivi. Seguimi fino alla fine di questo video perché ti spiego come ottenere ancora più vantaggi da questa fantastica occasione. Ma fissiamo un po' di date in calendario. Quando sono questi benedetti saldi estivi? Beh, si terranno dal 18 al 24 di luglio, una settimana di offerte super impertibile su tutto il nostro catalogo corso con sconti fino al 50%. Tuttavia ti spiego come aggiudicarti degli sconti extra alla fine di questo video, perciò seguimi fino alla fine. Ma se non ci conosci e è la prima volta che guardi questo video o se è nuovo sul mio canale, prima di tutto mi presento. Come ti ho detto, sono un architetto, ma sono anche il titolare del centro di formazione Adara Architettura, un centro di formazione ufficiale Autodesk che rilascia attestati ufficiali appunto a nome dell'Autodesk e ogni anno, da ormai più di otto anni, formo centinaia di progettisti, quindi architetti, ingegneri e geometri, sia sui software utili alla professione, sia alla gestione del cantiere. Ovviamente so che quattro righe di curriculum non possono essere sufficienti a fidarti di me. Per questo ti invito a guardare tutte le testimonianze dei nostri tantissimi studenti che si sono affidati a noi e a guardare il nostro centro di formazione con i loro occhi, a vedere cosa hanno apprezzato della formazione che hanno ricevuto e cosa hanno apprezzato del nostro esclusivo metodo di formazione. Quelle che stai vedendo sono infatti alcune delle moltissime testimonianze che ogni giorno riceviamo dai nostri corsisti e due sono le cose che emergono più di tutte. Vengono apprezzate la chiarezza e la semplicità con cui io espongo dei concetti anche molto complessi. Infatti ero stufa di ricevere insegnamenti barbosi o docenti monotono che spiegano le cose in maniera complessa e spesso magari perché non le hanno nemmeno capite. Ho voluto creare il mio centro di formazione con lo scopo di trasmettere quanto avevo imparato in maniera appunto semplice, veloce ed efficace, con tanti esempi pratici e poche chiacchiere teoriche, perché credo in un approccio pratico dato che la nostra professione è assolutamente concreta, si concretizza infatti in un'opera realizzata alla fine di un cantiere. Pertanto ok un po' di teoria ma poi per il resto bisogna andare sulla pratica. Magari stai pensando vabbè bello tutto quanto ma io tra poco parto per le ferie non ho il tempo di seguire un percorso formativo anche se è scontato. Beh ti do una notiziona, se non conosci il nostro metodo sappi che siamo gli unici ad offrire un portale on demand disponibile H24 compreso di assistenza senza scadenza. Pertanto puoi aggiudicarti gli sconti adesso prima di partire per le ferie e poi con calma formarti con i tuoi tempi quindi al ritorno seguire i corsi che ti sei giudicato ad un prezzo stravantaggioso e non perdi assolutamente nulla proprio perché il portale è senza scadenza così come l'assistenza che è garantita H24 7 giorni su 7 anche dopo che hai terminato il corso. Ma come ottenere ancora più vantaggi e sconti extra da questa settimana di saldi? Beh solo per i nostri iscritti c'è la visione in anteprima del volantino quindi anzitutto ti invito ad iscriverti trovi il link sotto a questo video e poi il volantino è appunto quello che contiene tutto il nostro catalogo scontato in occasione dei saldi estivi e poi se ci contatti e agisci subito possiamo riservarti un ulteriore sconto extra se appunto agisci subito e non aspetti l'ultimo giorno. Corri quindi a vedere il volantino iscrivendoti al link che trovi qui sotto individua il pacchetto che fa al caso tuo e contattaci via email o riservando una consulenza telefonica gratuita oppure ancora se sei già in contatto con noi contattando il tuo consulente di riferimento. E se dopo che hai dato un'occhiata al volantino pensi che sia ancora tutto troppo caro? Beh se trovi un altro centro di formazione che ad un prezzo inferiore ti offre portale on demand disponibile H24 senza scadenza, assistenza didattica non solo e anche ai lavori che stai effettivamente svolgendo nella tua vita lavorativa, illimitata e senza scadenza, aggiornamenti gratuiti sempre inclusi, customer service reale ed effettivamente tempestivo, il tutto anche dopo che hai terminato il corso beh allora sicuramente ti conviene comprare altrove. Ma sfido che tu riesca a trovare un altro centro che ti offre questi stessi servizi dato che la nostra è una formula unica. Se desideri approfondire le tue conoscenze e sentirti sicuro quando vai in cantiere approfitta subito dei nostri saldi estivi. Clicca sul link che trovi sotto a questo video e guarda il volantino con tutto il nostro catalogo corsi scontato. Approfitta ora di questi fantastici sconti e formati con calma quando ritorni dalle ferie senza perdere nulla. Il nostro portale on demand insieme all'assistenza è disponibile H24 in maniera illimitata senza scadenza.